Signori della notte, benvenuti e XS! Noi siamo quasi per cominciare. Questa notte la console sarà curata da Virus, Carlo Bardini, poi ci saranno Marco Cordi, il comandante Ginger. La voce Plastic Man è schizzo. E da questo momento chi c'è in console? Chi sta suonando? Chi sta suonando? Chi sta suonando? Go! 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 KILLER FAMBER KILLER FAMBER KILLER FAMBER Excess! Junior Plastic Band! Cosa succede? O mi manda in confusione o mi porto in progressione Killer! Andiamo in produzione! Andiamo in evoluzione! Excess! 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 Oh no! Let's go! Oh no! A presto 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 A presto